Qual è il regalo più grande che puoi fare alle persone che ami, ai tuoi figli, a tuo marito, a tua moglie? È quello di essere contento di stare al mondo. Quante volte invece ci lamentiamo di stare al mondo, non sappiamo gustare la vita. Ad aiutarci a ritrovare questo gusto della vita ci aiuta un libro, un libro che si intitola Scegli di vivere, l'autore Simone Olianti. Buongiorno intanto e grazie di esserci venuto a trovare. Grazie a voi. Simone Olianti è psicologo, docente alla Scuola superiore di scienze dell'educazione San Giovanni Bosco e soprattutto gira, gira l'Italia tenendo corsi, incontri in cui si parla proprio di questi argomenti. Possiamo dire che in qualche modo questo libro nasce appunto da questi incontri. Infatti questo più che un libro è nato da delle conferenze, da degli incontri che sono stati fatti in questi anni anche attraverso l'associazione Tutte Vita, che è un'associazione che si occupa soprattutto di assistenza del fine vita, di assistere anche le persone in situazioni di crisi, di disagio. Io sono partito da una mia crisi personale, la mia crisi personale molto grave di alcuni anni fa, da cui ho rischiato davvero di non riprendermi e allora ho detto ma tutte le cose che ho fatto, le esperienze che ho fatto, le cose che ho studiato, tutta la mia psicologia, la mia filosofia, a che mi sono servite se non mi servono a campare meglio? Se non riesco a trovare il modo di vivere una vita che sia degna di essere vissuta. Quella sensazione di fallimento, di essere persi che in un momento della vita può prendere chiunque. E lì ho imparato una cosa, ho imparato una cosa che è stata importante, che le crisi nella vita servono a evitarci il peggio. Il peggio normalmente è una vita piatta, una vita sterile, una vita che non è più eloquente, che non è più gustosa, una vita che si appiattisce su se stesso. Allora da lì è partito due domande molto importanti, che poi danno un po' l'ossatura a tutto il libro. La prima domanda è ma cambiare è possibile? È possibile, è sempre possibile cambiare, a qualsiasi età, però ha due condizioni, questo l'ho imparato, ha due condizioni. La prima condizione è che lo si voglia veramente fare e questa non è scontata. E perché non è scontata? Ma è semplice, perché alle nostre nevrosi noi ci affezioniamo moltissimo. Te le porti ieri da 50 anni, da 60 anni, diventano una parte di te. Per cui dici, come posso io vivere senza l'ansia? Sono stato ansioso tutta la vita, ora se mi levi l'ansia e che mi resta? Non ti resta l'uno, no? E questa è un po' la prima condizione, che veramente uno voglia fare un cambiamento, perché se non lo vuoi fare, non c'è niente, nessuna terapia, nessun mago, nessun psicoterapeuta, nessun psichiatra, nessun santone che ti possa fare questo. E il cambiamento riguarda solo noi stessi, perché non si possano cambiare gli altri, si può cambiare solo se stessi. La seconda condizione è che si sappia dove mettere le mani. Questo è anche altrettanto importante, perché noi che facciamo quando si va in crisi? Quando si va in crisi si fa come io, qui uso una metafora un po' brusca, ma molto chiara, no? E quando la caldaia si blocca, che si fa? Si piglia a martellate, quella mia riparte, no? Pensare che c'è un tastino rosso che lo pigi per 5 secondi e la caldaia riparte, c'è magia? No, non è magia, è che sai dove mettere le mani. Quindi bisogna volerlo, ma a volte anche volerlo non basta. Le due condizioni vanno messe insieme. Poi c'è un altro aspetto importante, questo è decisivo, secondo me, ed è che fa la differenza anche di molti percorsi di cambiamento, compresi quelli psicologici. Che la consapevolezza, o quello che alcuni psicologi chiamano l'insight, la consapevolezza è una condizione necessaria, ma non sufficiente al cambiamento. Cioè tu puoi diventare, dopo dieci anni di psicoanalisi, o di terapia, o di qualsiasi altro percorso di altro genere, puoi diventare molto consapevole del perché sta male e continui a stare male, spesso sei anche molto arrabbiato perché hai speso un sacco di soldi e nella tua vita non è cambiato nulla. Quindi non è sufficiente la consapevolezza. Poi bisogna che alla consapevolezza sia un'escalazione. Cioè sono consapevole di come sto così. Quindi è sostanzialmente il passaggio che io descrivo nella prima parte del libro sul cambiamento dal perché sto male al come si fa a stare bene. Quindi alla persona che sta affogando, la persona che sta affogando non si deve chiedere perché sto affogando, ma si chiede come faccio ad uscire dall'acqua. Evidentemente. Questa è la domanda. Sì, ma si salva la vita, dopodiché uno potrà anche riflettere sul perché sta affogando, ma questo viene non so. La prima esigenza è quella di cercare un aggancio per uscire. Esattamente. E la seconda parte del libro, quindi la prima parte del libro, infatti il sottotitolo è cambiamento e gusto della vita, perché la prima parte si concentra tutto sul cambiamento, le strategie e le pratiche per cambiare, perché dicevo bisogna fare delle cose diverse per cambiare, perché non c'era bisogno di Einstein per capirlo, anche se l'ha detto lui, che è impossibile risolvere un problema utilizzando le stesse strade, le stesse vie che hanno portato e hanno condotto a quel problema. Bisogna fare cose diverse. Sul cambiare strada c'è anche una cosa che mi ha colpito, cioè a volte basta anche cambiare la strada attraverso cui si torna a casa, dal lavoro, la sera. Perché noi andiamo in automatico, la nostra mente va sempre in automatico, per cui bisogna in qualche modo imparare. È un esercizio, anche quello che ci può aiutare. È un esercizio. Ogni cambiamento comincia da un movimento. Ogni cambiamento comincia da un movimento. E addirittura scrivi, conviene iniziare ad agire, prima ancora forse di avere carezza Infatti io cito un principio della cibernetica, che viene utilizzato anche in molte forme di terapia oggi, che è, se vuoi vedere, impara ad agire. È esattamente l'incontrario di quello che per tanto tempo ci siamo detti. Prima bisogna diventare molto consapevoli del perché si sta così, e soltanto una volta che si è molto consapevoli, poi forse allora in automatico si provvede. Il cambiamento va prodotto, non arriva da sé, non arriva per magia. E come lo produci? Lo produci cominciando a disinstallarti. Ecco perché la crisi è preziosa. La crisi è preziosa perché ti disinstalla degli automatismi, ti mette in una condizione e non puoi più utilizzare gli stessi meccanismi, perché quei meccanismi ti hanno portato alla rovina, ti hanno portato a stermare, non funzionano. Quindi quando stai male davvero, cambia, mori, cambia, mori, non c'è verso. Allora se vuoi vedere, impara ad agire, vuol dire prima comincia ad alzarti dalla tua posizione di comodità mentale, di staticità, di automatismi, comincia a cambiare prospettiva. Il cambiamento comincia da un cambiamento di prospettiva e il problema è sempre qui. Come ho imparato in uno dei miei viaggi in Oriente da un vecchio saggio tutto sdentato che parlava a malapena quattro parole d'inglese, però mi fece capire così. Tutti i problemi qui, tutte le soluzioni qui, il problema è sempre nella mente. Cambi una piccola prospettiva e tutto cambia. Perché? Perché la mente è duttile, oggi lo sappiamo, neuroscienziati parlano di neuroplasticità, vuol dire che tutte le volte che noi facciamo un apprendimento nuovo, si instaurano, si inaugurano milioni di nuove sinapsi, di collegamenti fra le cellule per consentirci di acquisire quell'apprendimento e farlo nostro. Quindi noi non siamo scavati nella pietra, immodificabili, no? Pensate a tutte le volte che noi diciamo, per esempio, e lo diciamo tutti, una volta nella vita se hai detto tutti, l'ho detto io, l'hai detto anche te, io sono fatto così. Che vuol dire sono fatto così? Non vuol dire niente. Tu sei fatto come ogni giorno scegli di essere. Spesso è un alibi che ci troviamo. L'alibismo è una malattia, no? Sì, io parlo dell'alibite acuta, come una malattia dei nostri tempi, cioè una specie di infiammazione dell'alibi. Se avessi avuto un'altra madre, se avessi avuto un altro padre, se non avessi avuto quella crisi, se non avessi avuto quel dolore. Se avessi tempo, lo farei e così via. Se avessi più soldi, ma quello è fortunato perché c'è... Guarda, lo diceva già Seneca, io lo traduzco in termini moderni, ma Seneca l'aveva già capito. La fortuna, no? Questo vale anche per i nostri figli, per i nostri giovani. La fortuna sta a metà strada fra la preparazione e l'attenzione a cogliere quello che ti sta accadendo. Fra la preparazione e l'opportunità. Perché se tu non sei preparato, non sei attento, quando l'opportunità ti passa accanto, non la vedi. Attenzione e responsabilità, sono due delle parole chiave che troviamo in questo libro. Insieme a una serie di consigli, diciamo, di piccole pratiche che possiamo utilizzare. Quindi non è un libro teorico, per così dire. No, è un libro molto pratico, perché non è un libro, è partito proprio da un lavoro... È la trascrizione, praticamente, di... Di questi corsi che io faccio, che ho chiamato Metanoia Workshop, riprendendo il termine Metanoia, che significa proprio un cambiamento di mentalità, un cambiamento di prospettiva, un cambiare proprio gli automatismi della mente. E qui do anche dei suggerimenti molto concreti per il cambiamento, che sono tre... Io li ho chiamati i tredici passi, ma ogni tanto me ne viene uno, per cui magari è una seconda edizione... Quindi, in una prossima edizione diventiranno. Perché questo è un libro vivo, è un libro vivo e quindi sta... Un libro, fra l'altro, che sta avendo successo. È il primo libro di una collana. È il primo libro di una collana, della collana Tutte Vita, di cui il responsabile è Guidalberto Gormolini, che è anche il presidente e l'iniziatore di questa associazione, che è l'associazione Tutte Vita. E che adesso gestisce la villa e il palco a Prato. Che adesso gestisce la villa e il palco, il movimento dei ricostruttori, che gestisce anche questa splendida villa del palco, dove appunto si fanno anche questi master sul fine vita, questi corsi sul metanoia, sul cambiamento, sul gusto della vita. Sono tre i corsi, anzi quattro. Ho fatto il quarto corso nuovo proprio a febbraio di quest'anno. Questo quindi è quello che succede alla villa e il palco ed è quello da cui nasce anche questo libro. Scegli di vivere, cambiamento e gusto della vita. La prefazione è di Guidalberto Gormolini, appunto il responsabile, curatore anche di questa collana. Edizioni Messaggero Padova e chi volesse poi leggere il libro sicuramente, ma anche confrontarsi, lo può fare, trovando anche sul sito internet di Tutto è Vita. Collegamenti, contatti. Questo è possibile perché facciamo continuamente conferenze, seminari, colloqui individuali, colloqui in corsi. Quindi è un movimento molto bello perché ti dà la possibilità senza scopi di lucro. Anche per le persone che non hanno possibilità, perché alle volte, io mi ricordo quando ho fatto la mia formazione, alle volte anche per fare un seminario di due giorni spendevi delle cifre assolutamente improponibili. Quindi è proprio dare la possibilità a chi vuole veramente avere un aiuto per cambiare qualcosa nella propria vita, anche che non ha le possibilità economiche. di poterlo fare liberamente e di poter magari ritrovare il gusto della vita. E questo poi alla fine è il miglior guadagno che io e tutti quelli che con me mi accompagnano in questo tragitto possiamo fare. Grazie. A Simone Oriente. Grazie a voi. Grazie a tutti.